Storia della razza. L'origine esatta della razza, è difficile da stabilire, ma è noto che la razza ha un'età molto venerabile. Secondo alcuni rapporti, tutti i terrier dell'isola d'Irlanda erano chiamati irlandesi, differendo significativamente per tipo, colore, struttura del mantello. Gli agricoltori irlandesi hanno allevato il Kerry Blue Terrier dal Blackhuntan English Terrier, e poi li hanno incrociati con l'Irish Wolfound. Ciò ha permesso di migliorare l'istinto dei cani, e di consolidare il colore grigio-blu, che non era troppo evidente nella foresta. Ulteriori incroci introduttivi, apparentemente con Bedlington e Véaten Terrier, portarono alla formazione di un particolare tipo di mantello. In letteratura esiste anche un'altra versione sui presunti incroci con il leggendario barboncino fuggito dalla nave che affonda dell'armada spagnola, un cane dall'aspetto squisito ed elegante, dal pelo lungo. Questo cane è sempre stato parte integrante della vita rurale nel sud dell'Irlanda, faceva la guardia alla casa, si prendeva cura dei bambini, pascolava il bestiame, sterminava la terra e i topi d'acqua. Il Kerry Blue Terrier ha un'eccellente carriera espositiva. La razza fu mostrata per la prima volta al cruise show in Inghilterra nel febbraio 1922, dove furono mostrati circa 20 cani. Nello stesso anno iniziò la registrazione dei cani di questa razza negli Stati Uniti, e in Canada e tre anni dopo fu fondato il club Kerry Blue Terrier. Punti salienti e fatti interessanti. Si ritiene che i contadini irlandesi abbiano sviluppato il Kerry Blue Terrier come risposta alla nobiltà, usando i levrieri irlandesi. I levrieri irlandesi venivano usati per proteggere i nobili terreni di caccia dai bracconieri. I Kerry Blue Terrier venivano usati per aiutare i contadini a cacciare silenziosamente nei nobili terreni di caccia. La caratteristica più distintiva del Kerry Blue Terrier è il suo mantello. Descritto nello standard di razza come morbido, denso e ondulato, non perde pelo e può essere tollerato da molte persone con allergie agli animali domestici. I Kerry Blue Terrier nascono neri, e, in tal caso, hanno un gene dominante per lo sbiancamento del mantello. Il colore inizia a sbiadire al grigio, e da 18 mesi diventa un solido grigio ardesia negli adulti. Kerry Blue Terrier è un terrier versatile da lavoro e da servizio. La razza era utilizzata in Irlanda, e in Inghilterra per la caccia alla piccola selvaggina e agli uccelli, nonché per catturarli da terra e dall'acqua. I primi Kerry Blue Terrier in Nord America furono cinque animali domestici importati nel 1918. Per la prima volta la razza è apparsa in mostre all'inizio degli anni 20. Aspetto? Le caratteristiche più notevoli del Kerry Blue Terrier sono la testa squadrata e la colorazione insolita. I cuccioli hanno un colore nero brillante, che entro 2 marzo anni viene sostituito da una tinta grigio-blu. Questo processo è chiamato ricolorazione, e può verificarsi con un temporaneo imbrunimento del mantello. Sono ammessi segni bianchi sul petto. Il pelo del Kerry è denso, senza sottopelo, setoso, morbido e abbondante. È interessante notare che questa razza praticamente non perde e non ha odore. Di conseguenza, è molto meno fastidioso pulire la stanza. Ma questo cane ha bisogno di una regolare toilettatura e spazzolatura. Questo è particolarmente vero per le zampe e il muso. Fino a poco tempo, subito dopo la nascita, i cuccioli di Kerry Blue Terrier, secondo l'antica tradizione, avevano la coda tagliata, come molti altri terrier, presumibilmente in modo che quando si cacciavano volpi e altri animali scavatori, sarebbe stato più conveniente tirare fuori il cane latana per la coda quando si arrampicava in cerca di preda. Anche una caratteristica della razza, è l'incollaggio delle orecchie per creare cartilagine, che conferisce alle orecchie una complessità, ad esempio, in contrasto con le orecchie a sventola del pastore tedesco. Tratti distintivi del carattere. Il Kerry Blue Terrier si è formato come cane domestico, vivendo sempre con una famiglia di contadini. Innanzitutto il coraggio di questi cani era molto apprezzato, poiché custodivano la casa, e venivano utilizzati per la caccia. Ai cani che svolgevano funzioni così diverse, era richiesta una notevole ingegnosità. Dovevano anche pascolare bovini, cavalli e persino servire la selvaggina dall'acqua per cacciare. Attualmente, il Kerry è praticamente un cane domestico, conservando senza dubbio tutti gli istinti di un guardiano, e di un cacciatore. Molto fedele al proprietario, non disdegnerà altri membri della famiglia. Questo terriere incline alla giocosità, ama i bambini, sono stati registrati casi di notevole intelligenza e talvolta astuzia non canina del trasporto. Kerry è un cane molto amichevole. Manutenzione e cura. Kerry Blue Terrier prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. I Kerrys non perdono, quindi il loro pelo deve essere spazzolato accuratamente una volta alla settimana per evitare che si aggrovigli. In combinazione con una spazzolatura regolare e una pulizia completa ogni 6-8 settimane, il mantello sarà gestibile. La testa, il collo, le orecchie e il ventre sono tagliati con un tagliacapelli, e la parte posteriore e i capelli laterali sono tagliati con le forbici. Il tuo allevatore, o altro proprietario di Kerry, è il tuo miglior assistente per imparare a tagliare il tuo cane. Il sito webus Kerryblueterryer ha ottime tabelle e guide e youtube a video su come tagliare un taglio di capelli. Taglia le unghie almeno una volta alla settimana, e pulisci le orecchie almeno due volte al mese. Kerry ha due velocità. Si divertono a fare sport, giocare all'aperto, fare jogging o fare jogging con il loro proprietario. A loro piace, anche sedersi da soli con il padrone di casa mentre la famiglia guarda la tv o si siede accanto al caminetto. La maggior parte dei carri essenzialmente vuole stare con i loro proprietari, facendo quello che stanno facendo in questo momento. La razza ama particolarmente allenare la sua mente e il suo corpo impegnandosi con il suo partner umano in una serie di sport canini, tra cui obbedienza, pastorizia, immersioni in banchina e caccia. I Kerry sono molto intelligenti, e soprattutto si divertono a partecipare all'agilità, all'obbedienza, ai rally, alla caccia e persino alle immersioni in banchina. Tenere la mente e il corpo occupati può aiutare a crescere un membro della famiglia felice ed equilibrato. La socializzazione è importante, così come il corso iniziale di obbedienza con un istruttore, che ha lavorato con i terrier. Le passeggiate regolari sono utili per allevare un cane versatile e ben socializzato. Salute. Il Kerry Blue Terrier è una razza sana. Gli allevatori responsabili sono costantemente alla ricerca di nuovi strumenti diagnostici, e di rilevamento delle malattie, inclusi nuovi test del DNA, per garantire che non vi siano difetti ereditari nei loro programmi di allevamento. Chiedi all'allevatore del tuo cane i suoi consigli sui test di salute. Molti allevatori eseguono test del DNA di base, e ti comunicano i risultati del test. Il sito web del Kerry Blue Terrier USA Club è una buona fonte per le ultime informazioni sulla salute della razza, prezzo e come acquistare correttamente. Il cucciolo di club Kerry Blue Terrier costa circa 600 euro. Un nativo di asili nido europei, Inghilterra, Scozia, costerà 1200 al 1500 euro, a seconda delle qualità esteriori e dello stato di salute. Linea di fondo. Il Kerry Blue Terrier è una razza canina allevata nella contea di Kerry, in Irlanda. Questo è un cane forte e armoniosamente costruito con muscoli ben sviluppati. Questa razza era conosciuta nella sua patria, l'Irlanda, almeno 150 anni fa. Usato come pastore di greggi di pecore, cane da guardia. Kerry Blue Terrier è un buon nuotatore, guardiano, cacciatore e cacciatore di topi.